Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video oggi ce l'ho in compagnia mio amico e parleremo del nuovo giornamento e delle nuove mappe ok, allora prima di tutto il nuovo giornamento oggi ce l'ho in compagnia mio amico che è stata molto più a registrare un video con me e ha meno coppe di me però un leggendario Leon allora prima di tutto il conflitto è stato bellissimo poi mi hanno regalato 6 casse enormi amico 6 mega casse l'altro youtuber madamacci 6 mega casse mi hanno regalato a me casse enormi vabbè e non ci ho trovato niente quindi non è cambiato niente comunque e poi è uscita anche una nuova mappa dominio che andremo subito a provare quindi mettiamo un brawler e cerchiamo di venire a dominio poi hanno messo quella schermata e un'altra cosa hanno messo questo è troppo figo poi c'è dominio dovete riprendere tutte le basse quindi noi dobbiamo giocare a dominio che già da fuori è più di scena è nostra 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 perciò è una pagametta con i maxi si parli in alto? è una terra maxi hai avuto tutto hanno preso 8 passi cosa? non ho fatto nulla questa questione no non ho fatto nulla non ho fatto nulla no c'è il cazzo è un giro che ha bloccato le cose no guardami che è giusto è un giro si potrebbe essere per te no un guido così, piccolino, doppi punti, è nostro, è nostro di essere non ci credo ragazzi, sta andando per nuovo e l'ho persa, è troppo bello, bella partita la cosa più bella è che noi ci riproviamo perchè noi siamo forti e ci riproviamo quindi facciamo un'altra partita di queste, forse comunque spero e ci andiamo e ci andiamo e ci andiamo ok, la seconda base è nostra e anche la terza base è nostra e anche la pasta e anche la pizza ma sono super felici e poi sono più felici e sono più felici è bellissimo essere super felici è proprio un tocco di classe così, così mi piace 13 passi allo zero 14 passi mi piace troppo vincere a tavolino così è è è è è è è è 30 bassi 35 bassi ricordate di vedere questo video fino alla fine e dite a tutti quanti i vostri amici di seguirmi tutti quelli che conoscete ok diretti con l'ultima partita sempre domani e però voglio provare adesso vedo anche questa nuova musichetta questa è forte ma è un po' debole perché è lentissimo però se lo incontriamo che è lentissimo ma anche per il resto è fortissimo è un po' più lentissimo è un po' più lentissimo tipo ok quanto è bello questo questo è il termine giusto c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno che si fa più che leggo e non è anche tantissimo anche questo è un conto anche questo è un conto anche questi punti anche questi punti, li stanno prendendo un nuovo l'osso beh non posso fare i punti punti vabbè ok abbiamo vinto che bello uscire così facile ok ragazzi penso di chiedere il video così ricordate di dire a tutti i vostri amici di iscrivervi al mio canale mettere mi piace e niente solo questo ricordatevi di guardare anche tutti gli altri video mettete mi piace iscrivetevi e ci vediamo in prossimo video ciao ragazzi ciao